Questo è un importante progetto, anzi direi di più, un progetto che qualifica di fatto le azioni del piano di zona sull'intero territorio occidentano. Oserei dire che sui giovani il progetto più importante è quello della prevenzione per le tossicodipendenze, per l'alcolismo e per il gioco d'azzardo, che tanti danni stanno creando nella nostra società, ma anche qui nel nostro territorio. È un progetto molto complesso che nasce dall'incontro con alcune comunità che si occupano di questo problema, in questo modo del dottor Santoro, Mimmo Santoro, che abbiamo avuto modo di incontrare in un progetto di educazione alla legalità che ha coinvolto tutte le scuole. È un progetto che non sarà semplicemente fatto di incontri frontali, in cui si spiega appunto il danno che deriva dalla tossicodipendenza, è un progetto che vuole calarsi anche su un'esperienza diretta di chi purtroppo è stato vittima della droga o dell'alcolismo e che poi ringraziando Dio ne è venuto fuori. Per cui sarà l'esperienza diretta a essere esperienza educativa per i giovani. Questo è il tentativo che si sta cercando di fare. Accanto a questo ci sarà un gruppo di strada che cercherà di incontrare chi purtroppo è incappato in questo grosso disagio e saranno coinvolti una serie di comuni, in particolar modo i comuni più grandi dove questo problema è realmente emergente, quindi Vallo, Agropoli, Cassellabate e il territorio tra Casalvellino ed Ascea.